Lui è uno forse dei super 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 ospiti della serata perché è il aiutami perché io forse dimentico coediatore, co-conduttore, poi? Nonché ritrattista delle dive, ma parto dal concetto che la diva è la parte vanesia che c'è in tutti noi quindi siamo un po' tutte dive e in questa occasione Daniele Pacchiarotti ovviamente e in questa occasione io e Maria diciamo abbiamo, siccome anche lei ha molta empatia con l'arte ci siamo trovati per caso su un tavolino a scrivere questo nome, a questo format che è Perle di Moda siamo giunti qui a Palazzo Ferraioli alla sua terza edizione e questa sera in particolare, reduci da già due edizioni di molto successo siamo qui a Palazzo Ferraioli, un bellissimo palazzo romano del Settecento a presentare la nuova sfilata, la nuova collezione di Perla Monset che dedica appunto la sua collezione proprio il suo brand alla figlia Perla e ci sarà la sorpresa un mio quadro che la ritrae all'asta e tante altre sorprese una è lui certo, assolutamente, ci sono sempre posso dirlo, è anche un mio amico da tantissimi anni e lo stimo da morire è un grandissimo showman e tra l'altro diciamo che stasera qui diciamo che oltre alla sfilata è un vero show è una sfilata show, così chiamata in questo modo poi oltretutto c'è anche c'è anche comunque la parte charity quindi beneficenza che se ne occupa appunto abbiamo l'onore anzi di avere il Rotary si diciamolo perché è molto importante questo si, appunto il Rotary Club con Matteo Ciampaglia che è uno degli associati più importanti e quindi ci sarà una rifa benefica oltre che una grande sfilata con appunto strizzando perché no un occhio a buon compagno visto che è proprio l'anno in cui purtroppo è venuto a mancare con alcune amiche di Maria che sono appunto nate a non erarari delle stelline esatto e sono sempre uguali quindi siamo pronti, manca poco siamo pronti ma la cosa diciamo più che mi emoziona molto è la premiazione dei 25 anni di carriera del nostro italiano amato napoletano Gianni Donzelli cioè l'altra metà degli audio 2 è il cantautore di appunto alle 20 tanti testi di Mina e acqua e sale di Celentano eccetera e verrà premiato proprio qui ai suoi 25 anni di carriera per me è un grandissimo onore essere qui perché davanti a me ho uno dei più grandi cantanti della musica italiana quindi per me che provo provo a cantare è davvero un grande onore posso stringerti la mano davanti a tutti i nostri assolutamente perché per me è un grande onore io sono imbarazzatissimo Daniele tu puoi esatto quindi è doppio imbarazzo e quindi lascio la parola lascio la parola a Daniele che è l'art director della serata perché questa sera ci sarà la premiazione e quindi Daniele a te la parola grazie Angelo allora come vi avevo preannunciato prima lui è è una delle nostre diciamo dei nostri sogni che abbiamo voluto per questa serata io conosco Gianni come amico ma anche soprattutto nasco come fan e quindi la premiazione di questa sera sarà appunto alla carriera di Gianni Donzelli quindi Gianni siamo in un palazzo del Settecento bellissimo in questo contesto tra moda arte musica sei felice di essere qui con noi quando sarà proprio il momento della premiazione ma intanto cosa possiamo dire a chi ci guarda beh sicuramente è una cosa che mi fa piacere sono felice perché se no magari non sarei venuto nonostante insomma l'amicizia e la conoscenza insomma che ormai insomma qualche annetto possiamo dire se posso permettermi Gianni Donzelli ama anche la mia arte perché la conosce sì l'ho vista più di una volta e devo dire insomma che sei molto bravo questa è una cosa ma lo dico insomma da profano ce lo dico con un occhio diciamo esterno insomma da intendere no ma per me profano no comunque è insomma è un complimentone a prescindere cioè anche se scarabocchiavo comunque è una cosa molto bella hai detto una cosa bella prima insomma magari non so se fortemente voluta o capitata ma effettivamente è capitata o è voluta nel senso il giusto no a parte questo c'è proprio il compromesso storico se vogliamo dire in un certo senso tra un palazzo della storia quindi comunque rappresenta una forma un'espressione artista storia di Roma la musica e comunque insomma arte in generale quindi importante e poi la moda che è spettacolo la pittura quindi insomma penso che sia una location perfettamente asseccata adatta a questo tipo di manifestazione insomma di spettacolo che hai se state così in gambe insomma da mettere in sesto devo dire insieme a la showgirl e stilista Maria Monce alla regia mi hanno mandato qui perché sono quasi le 20 non so se tu lo sai e quindi sì l'evento io pensavo che si fossero fermati gli orologi invece non sono le 20 quindi non sono ancora alle 20 sono ancora alle 20 alle 20 noi saremo sempre alle 20 perché io ricordo Gianni beh io avevo 15 anni nel 95 quando al festival al bar mi innamorai di questo pezzo poi a quest'are di che cosa parliamo insomma è uno dei nostri la musica vera la vera musica è uno dei nostri portenti e la colonna sonora della nostra vita grazie a tutti grazie a tutti